Ben tornati a Siamo Noi, do subito il benvenuto alla collega di Rai News 24, Laura Tangherlini. Grazie per essere tornata in questo pomeriggio. Ciao. Tra poco Laura ci svelerà in retroscena di Matrimonio Siriano, un libro con tanto annesso di documentario che racconta la sua esperienza in Medio Oriente e in particolare le sue nozze solidali a sostegno dei bambini orfani tra il Libano e la Turchia. Una bellissima esperienza. Leggendo la sua scheda ho capito che deve essere stata davvero un'esperienza esaltante e importante. Però prima io voglio sapere, Laura, ci diamo del tu, no? Sì. Voglio sapere dove nasce questo tuo amore per il Medio Oriente. Allora, quello per la Siria nello specifico nasce dal fatto che ci ho vissuto nel 2009 per studiare arabo e mi ero poi innamorata di questo popolo. Quello per il Medio Oriente nasce, credo, sui banchi di scuola perché non riuscivo a capire per quale motivo ci fosse la Francia e non ci fossero i francesi, i francesi, ci fosse l'Inghilterra e ci fossero gli inglesi, ci fossero i palestinesi ma non ci fosse una Palestina. Non riuscivo a capire questa mancata corrispondenza. Per cui mi sono un po' incuriosita e da lì ho deciso che aveva voluto fare la giornalista per raccontare in realtà poi tutto il conflitto israelo-palestinese. Questa è stata un po' la genesi. E così è stato, no? Era un dubbio scolastico in realtà. E da quel dubbio scolastico poi, come dire, è venuto fuori non soltanto una provisione importante come quella di giornalista Radio News 24 ma anche l'interesse appunto per quella fascia medio-orientale al centro della quale c'è appunto la Siria. È vissuto in Siria, è vissuto in Libano due anni e anche per due volte se non sbaglio, no? In Libano è così. In Libano sono state parecchie volte in realtà. Ecco, in uno degli ultimi viaggi negli anni scorsi siamo, credo, dopo il 2012, no? Nel 2013 incominci a scrivere i primi libri. Il primo si intitola Siria in fuga, l'altro Libano nel baratro della crisi siriana. Io voglio capire, in questo tuo andare e tornare dal Libano, quali differenze hai trovato? Perché credo che lì la situazione sia pian piano peggiorata. Allora, io il Libano che avevo conosciuto la primissima volta era un Libano molto piccolo, nel senso abitavo appunto in Siria ed ero andata a vedere Sabra e Shatila, sempre per le ragioni storiche di cui ti dicevo. Poi sono tornata successivamente nel 2011, per qualche mese, e non c'erano ancora le evidenze delle conseguenze del conflitto siriano. Quindi c'era la cosiddetta Beirut bene, alcuni quartieri, Hamra, Shrafili, e quelli considerati degli uffici, dei turisti, dove si vedeva il lusso, si vedeva la ricchezza, si vedevano molti aspetti occidentali, tra virgolette. Man mano che sono tornata negli anni, per seguire sempre invece il conflitto siriano e le sue conseguenze, il dramma soprattutto della sua popolazione, quello che ha cambiato molto è proprio l'immagine visiva, l'impatto che si ha, soprattutto in certe aree di Beirut, queste di cui ti parlavo. C'è un fenomeno crescente, enorme, ad esempio, che è cresciuto tantissimo in questi anni, dei bambini mendicanti siriani per la strada, dei bambini ai semafori che lavano i vetri o che vendono i fazzolettini, in alcune vie, quartieri di Beirut, dove tutto questo non esisteva assolutamente. Quindi Beirut in questi anni purtroppo, da questo punto di vista, è cambiata tanto. Il dramma del conflitto siriano a Beirut lo si vede quotidianamente. E noi stiamo vedendo delle immagini che appunto spiegano la trasformazione del Libano e quindi anche della Siria inevitabilmente. A un certo punto però tu dici, io non posso più soltanto limitarmi alla testimonianza, andare lì a raccontare, io devo fare qualcosa per questo popolo. E nasce da qui l'idea di matrimonio siriano, no? Un libro con un DVD che è un documentario che testimonia appunto la condizione di quei luoghi. matrimonio solidale con tuo marito, il cantautore Marco Rò. Io ho letto che hai fatto tutto tu però, diciamo così. Lo hai coinvolto un po' questo caro marito? L'hai trascinato? Diciamo che mio marito non è un appassionato di organizzazione. È una persona che si adatta a tutto, si lascia trascinare in qualsiasi folle avventura che tu possa proporre, però non è una persona a cui piace organizzare. Sarà contento di sentirselo dire? No, lo sa, lo sa, me lo ammette sempre. È una persona fantastica, però tu dici fammi fare tutto ma non farmi organizzare le cose. Per cui insomma sì, in realtà l'ho messo, ho prima verificato che la cosa fosse effettivamente possibile, no? Perché prendere i contatti con le varie ONG che abbiamo aiutato, capire un po' la logistica, capire, andare ad individuare quali bambini magari poter aiutare, no? Fatto questo ho proposto questa cosa a mio marito che è stato ben lieto di accettare e di portarla avanti. Che si è iniziato a prendere un aereo e ad arrivare, questo un po'. Insomma, la beneficenza l'abbiamo fatta in due. La beneficenza l'abbiamo fatta in due con i regali di nozze, quindi era una cosa assolutamente comune. Ecco, spieghiamo per vedere quello che è successo. Vi siete sposati in Italia, in Umbria, con rito religioso, poi andate lì in Siria dopo che tu hai organizzato tutto e date vita a questo matrimonio solidale. Partiamo dai regali di nozze, no? Che fine hanno fatto quei regali? A che cosa sono serviti? I regali di nozze li abbiamo utilizzati per aiutare un 160 circa profughi siriani orfani che erano ospitati in due strutture areiali, siamo dunque in Turchia al confine con il Libano. Questi sono alcuni dei bambini. Siamo andati con mio marito appunto a Regali e abbiamo comprato loro, lo vedete un po' nelle immagini, giocattoli, materiali di cancelleria, finti strumenti musicali per poi cantare tutti insieme le canzoni che io e Marco avevamo scritto e composto. E poi Giacconi Invernali, perché avevo chiesto alla direttrice dell'orfanotrofio che cosa poteva servire a questi bambini e lei mi aveva detto anche che servivano Giacconi Invernali perché era fine ottobre, insomma stava arrivando l'inverno di un anno fa. E poi abbiamo fatto questo secondo ricevimento di nozze, siamo andati vestiti da sposi, abbiamo fatto una festa, due feste anzi in queste due diverse strutture con tutti i bambini e lì sono finiti i regali di nozze. Sono delle immagini straordinarie. Ma erano straordinari i bambini, erano veramente... Quegli occhi innocenti che purtroppo devono subire quello che stanno subendo, una guerra incredibile. Un diario musicato, lo spiegavi prima, abbiamo visto anche tuo marito cantare, suonare. Il ricavato di quello che arriverà servirà a che cosa? Voi siete già attivi con Terre des Hommes, no? I loro progetti saranno beneficiati da questo... Sì, Terre des Hommes in realtà è già in parte stato aiutato perché invece delle partecipazioni di nozze e dei regali delle bomboniere, i soldi anche lì sono stati destinati per sostenere a distanza un altro bambino siriano che si trovava, adesso non più perché è arrivato fortunatamente in Europa, si trovava nel campo di Burgesh e Mali nel sud del Libano, che siamo andati a conoscere con Marco e che l'abbiamo sostenuto per un anno e per aiutare proprio un progetto di Terre des Hommes che in collaborazione con la WISP stava allestendo un campetto sportivo polivalente per siriani e libanesi nella Beccal libanese. I futuri soldi che potrò destinare grazie alle vendite andranno sicuramente a Terre des Hommes e poi insomma in base anche a quanti saranno i soldi l'idea di aiutare anche altre ONG magari tornare proprio in quello orfanotrofio e poter fare qualcos'altro in quella stessa struttura. Io leggendo un po' il tuo libro e leggendo anche la scheda che ti riguarda ho letto che definisci questa esperienza una finestra di verità. Mi spieghi meglio perché? Piccola confessione, questa definizione non è mia ma è dell'editore. E qua, in realtà, infinitizzone non è mia. Verità, sicuramente la verità che intendo io per queste testimonianze che ho raccolto sta nel fatto che molto spesso quando si è parlato in questi anni di conflitto siriano ora forse un po' meno ma soprattutto nei primi anni e questo è il motivo che mi ha spinto a cominciare questo percorso di sensibilizzazione di documentazione, di scrittura, si parlava di numeri, si parlava poco delle persone si parlava poco del perché e da cosa queste persone scappassero che cosa soffrissero, insomma quale fosse la loro sofferenza nella fuga e quale fosse anche la loro sofferenza però nei paesi che ne andavano ad accogliere o a non accogliere perché io racconto anche tante storie di razzismo, di intolleranza di convivenza difficile fra siriani e libanesi, fra siriani e turchi quindi la verità che forse spesso non emerge è proprio questa che ci sono tante tematiche di sofferenza per queste persone a cui spesso non si pensa penso a tutto quello che è legato al non poter andare a scuola alla violenza domestica, alla mancata integrazione a tante sfaccettature, che spesso anche nei TG vengono dimenticate vengono lasciate stare perché ci si limita a dire i numeri dei morti, delle vittime si parla magari della più alta geopolitica però poi le storie, la vita quotidiana di queste persone viene persa è proprio così, per questo appunto viene definita all'editore una finestra di verità che volte noi preferiamo non conoscere, perché c'è questo vizio un po' soprattutto italico di voltare lo sguardo dall'altra parte io ti chiedo in questa tua esperienza che deve essere stata un'esperienza che ha toccato le corde del tuo cuore e anche di un ragionamento collettivo sulla situazione del mondo io vorrei che tu ci raccontassi soprattutto quegli sguardi di bambini che hai visto perché io credo che poi lì dove c'è l'innocenza, la tenerezza tutto questo racconto diventa ancora più difficile da farsi guarda, gli sguardi di quei bambini soprattutto collegati a quello che mi raccontavano questi bambini erano qualcosa da far, sì, gelare il sangue nelle vene e anche da far piangere, nel senso che io spesso mentre l'intervistavo mi sono commossa devo dire che loro non piangevano mai invece un solo bambino è scoppiato in un pianto addirotto che ha durato penso una quarantina di minuti l'intervista si è conclusa lì perché non riuscivamo più a calmarlo mentre ci raccontava di sua madre ma per tutti gli altri bambini loro dicevano le verità le gravità più assurde con un tono, con uno sguardo talmente innocente talmente leggero da far sembrare questo contrasto veramente una coltellata, ne cito solo una di cosa una bambina di otto anni, questa bambina era in Turchia a Reiali appunto, ha la domanda dove e come ti immagini fra dieci anni mi ha risposto, nel documentario fa parte degli estratti del documentario con una voce veramente molto delicata anche il viso e vede lineamenti molto delicati quasi con il sorriso ma il sorriso di un bambino che ha dovuto crescere troppo in fretta non di un bambino che è felice mi ha risposto, io fra dieci anni mi immagino di essere in Siria di camminare per la Siria ma di camminarci da sola perché saranno tutti morti e non ci sarà nessun'anima viva a camminare in Siria con me ora un bambino di otto anni che ti risponde in questo modo secondo me dice tutto assolutamente sì tu prima hai raccontato di una tua esperienza a proposito di bambini un'adozione e ti faccio un nome Momen ci racconti un po' la tua esperienza chi è Momen? Momen è questo bambino che appunto abbiamo sostenuto a distanza al posto delle bomboniere si trovava, eccolo qui si trovava in questo campo di Burgesshemali siamo nel sud del Libano un campo palestinese e quando siamo andati a trovarlo era molto timido era molto intimidito era anche molto stanco perché erano i giorni del Ramadan e aveva fatto tardi per l'Iftar fino alla sera prima aveva fatto le 4 del mattino quindi non parlava molto poi insomma un po' con il mio arabo sicuramente anche divertente perché completamente sgrammaticato quindi mi aveva anche un po' preso in giro un po' con il mio arabo un po' con il chiacchierare si è sciolto e abbiamo trascorso questa giornata insieme lui ci ha portato al mercato dove si è fatto comprare dei vestiti e poi mi ha raccontato che questo era quello che faceva suo padre lui era orfano di padre aveva assistito alla morte del padre e gli aveva sparato un cecchino quindi ci ha un po' investito di questo ruolo paterno e insomma poi si divertiva perché ha preso in mano la telecamera ha cominciato a fare le riprese era un po' il boss all'interno del campo rispetto agli altri bambini si faceva notare e poi si divertiva a soffiare e a urlacchiare all'interno del microfono per far sobbalzare ogni volta il cameraman che aveva le cuffie insomma poi si è sciolto ed era un bambino con problemi comportamentali legati a questo trauma che aveva subito chiaramente soffriva di asma la casa era molto malsana molto umida quindi questo non aiutava la sua salute e per fortuna in realtà è riuscito con la mamma a raggiungere gli altri fratelli che si trovavano in Germania ed ora si trova là questa è notizia insomma di pochi minuti fa questa è una bella notizia ma questa roba qui ti resta dentro ad una collega che ha visto tante cose insomma tanti anni di carriera umanamente resta dentro ma si ti dicevo io ogni volta che ho a che fare con questi bambini o mi commuovo o anche nel rivedere le immagini spesso i miei amici siriani spesso mi dicono tu sei siriana non sei italiana ora non so perché ma la Siria mi ha veramente stregato quindi il legame che ho un po' con queste persone effettivamente lo sento molto forte e ogni volta che fai questo tipo di viaggi o questo tipo di incontri la cosa bella è che sono loro a darti sempre più di quello che dai sia a livello emotivo sia anche a livello stupidamente pratico quando siamo andati a consegnare questi giacconi ad esempio prima ancora che io consegnassi tutto giochi, giacconi, penne, matite, palloncini loro mi avevano già fatto delle foto a me e a mio marito con questi bambini e l'avevano già stampata, incorniciata e ce l'avevano già regalata loro a noi ma questo dopo 20 minuti che la nostra visita era cominciata cosa straordinaria per cui io penso che questa roba qui di tenere dentro quello che si vede si chiama semplicemente umanità sia la Siria sia l'altro posto del mondo dove si soffre e questa è una cosa importante essere persone umani è forse il capitolo fondamentale della nostra storia qui sulla terra noi cara Laura chiudiamo queste interviste chiedendo ai nostri ospiti a chi chiedere grazie e a chi chiedere scusa anzi a chi dire grazie e a chi chiedere scusa ricordando spesso le parole di Papa Francesco tu a chi ti senti di dire grazie e a chi vorresti chiedere scusa grazie sicuramente a tante persone in primis il mio marito chiaramente perché mi ha seguito perché si è fatto trascinare si è fatto trascinare però insomma ci ha messo molto del suo perché poi per esempio con Momen aveva legato tantissimo l'aveva preso come suo padre quindi insomma e poi stiamo portando avanti questo progetto ormai da parecchi anni con le sue musiche quindi mi segue veramente andiamo dovunque insieme per questo progetto mio marito perché comunque mi sopporta ora al di là di questo progetto sopportarmi non è facile questo vale un po' per tutti gli uomini ma io però dice lui che sono parecchio impegnativa sicuramente lui e sicuramente rimanendo un po' nel tema la stessa Siria perché quel viaggio che nel mio caso nacque per caso insomma io scelsi questa meta come una delle mete dove studiare arabo molto a caso non avevo un motivo particolare in realtà mi ha dato proprio a livello di anima tantissimo in questi anni tutti gli incontri che ho fatto in Siria tutti i siriani che ho conosciuto e poi vabbè io sono un'amante spassionata del mio cane ringrazio il mio cane che nella mia vita ha un ruolo fondamentale che sorpresa al nostro matrimonio il mio cane che si chiama Scucchia mi ha accompagnato all'altare ha portato le fedi e ha fatto le riprese con la GoPro sulla schiena ha fatto tutto lui sicuro? ma è un essere umano pure lui diciamo si avvicina molto a chi chiedere scusa invece? chiedere scusa in parte a me perché sto lavorando ancora tanto sul volermi bene una cosa che non non so forse non mi hanno insegnato e forse non ho ancora ben imparato sempre a mio marito perché mi deve sopportare e a tutti i siriani che non ho aiutato invece perché questo progetto chiaramente ha permesso di aiutarne una quantità minima rispetto a un dramma tanti anni avanti e poi a tanta gente non dovrò chiedere scusa forse a tanta gente con cui mi sono comportata male che adesso non mi viene in mente ma sicuramente la lista degli scusa è molto più lunga dei grazie ora non grazie Laura Tangherlini a proposito di sopportazione Laura guarda che arriva che generosità a proposito di sopportazione la mia sopportazione quotidiana guarda che arriva grazie Laura Tangherlini grazie a voi grazie per quello che ha condiviso con noi noi stiamo per entrare nello spazio che precede la coroncina alla Divina Misericordia spazio oggi dedicato alla preghiera una preghiera bellissima quella che scopriremo una preghiera di Sant'Antonio di Padova a tra poco qui grazie a tutti